Brescia. 2 settembre 2023 La ricerca del turista tedesco è caduto dalla barca e si è dispersa nel lago Iseo. Nella tarda sera di ieri sera. Mentre i subacquei dei vigili del fuoco cercano il ventenne sono finiti in acqua. Le dinamiche sono sempre più chiariti. Contrai alla ricostruzione iniziale. Non sarebbe stato un tuffo volontario. Come era apparso nelle prime ore. Ma di un tragico incidente. Una delle altre ragazze che erano sulla barca avrebbero effettivamente preso i controlli improvvisamente accelerare e causare la caduta dell'amico in acqua. I carabinieri denunciarono la giovane donna 23 anni. Anch'essa di nazionalità tedesca che ha effettuato la manovra. Il procuratore in servizio Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi del crimine. La ricostruzione la ragazza era con alcuni coetanei tedeschi sulla barca e tutti. Secondo quanto riportato. Avevano bevuto. Ad eccezione del figlio del proprietario a cui era stato affidato la barca. Il ventenne è finito in acqua sembra si sono posizionati a prua. Dove c'è pochissimo spazio per fermarsi e. Secondo la ricostruzione dei carabinieri. L'amico di 23 anni è arrivato improvvisamente ai comandi che accelerano e causano la loro caduta in. Acqua. La giovane donna e non sono più stati emergenti e a quel punto gli amici hanno lanciato l'allarme. L'episodio si è svolto nelle acque di Pisogne. Dove ieri sono in corso la ricerca dei subacquei e dei vigili del fuoco. Valutando anche l'ipotesi. Della ricerca strumentale con l'uso di un ROV.